Ciao miei cari, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, sono sdraiato sul sedile della mia tunghina vedete mi sono abbattuto perché mi sto un attimo rilassando, intanto vi faccio questo video allora, come avrete visto dal titolo oggi parleremo di ansia da potenza perché oggigiorno ci sono un sacco di nuove ansie, tipo l'ecoansia e invece stasera parleremo dell'ansia da potenza allora, abbiamo già fatto un video parlando delle elaborazioni esasperanti che io francamente non condivido al 100% conosco un sacco di amici che le hanno fatte, hanno delle macchine potentissime ma io francamente lo eviterei ma questo non vuol dire niente, ognuno fa quello che vuole ma parliamo adesso invece di auto stradali ultrapotenti allora, come ben sapete, oggi guardate il listino prezzi delle auto nuove, le supercar sono tutte oltre i 650-700 mille cavalli allora, tutto questo ovviamente ha scapito di un'elettronica super invasiva cambi automatici, elettronica invasiva al 100% auto molto pesanti, più pesanti del dovuto anche se vengono dichiarati dei pesi sicuramente più bassi di quello che in realtà sono ma sapete tutti che con tanta elettronica e cambi e tutto quanto le auto vanno a gravare sul peso questo è un dato di fatto allora, io dico sempre, sarebbe meglio avere meno cavalli ma auto più divertenti adesso non voglio sempre rientrare sullo stesso discorso del cambio automatico che detesto profondamente io dico che se le automobili e supercar fossero col cambio manuale con la frizione perché ragazzi, le auto sportive senza il pedale della frizione sono auto inanimate non c'hanno anima, è inutile, è come mangiare gli spaghetti e i frutti di mare o risotto e i frutti di mare col parmigiano sopra fa schifo, detto proprio papale papale allora, le auto, le supercar dovrebbero essere auto che divertono chi le compra adesso, noi vediamo in giro un sacco di supercar che un tempo erano considerate il massimo del divertimento possibile così elettroniche, cioè sono belle le supercar per la carità ma il cambio le uccide il cambio automatico uccide le supercar quindi almeno per le supercar dovreste lasciarle col cambio manuale io lo so che molta gente ormai si è abituata ne ho sentito anche di gente che dice che non può tornare indietro perché dopo aver provato il cambio automatico si può tornare indietro io personalmente l'ho provato il cambio automatico mio padre ha avuto una macchina col cambio automatico l'ha avuta per 7, 8, 10 anni credo e andava anche piuttosto forte sulla carta ma io non mi ci sono mai abituato oppure la usavo qualche volta però non mi sono mai voluto abituare quindi vi dico anche quelli sono giustificazioni senza senso perché in realtà per divertirvi con la vostra auto sportiva dovete avere il cambio manuale ma lasciando come dicevo prima il cambio cioè le auto dovrebbero essere meno potenti tanto ve lo dico chiaramente sul pianeta terra sul pianeta terra ce ne sono pochi in realtà che sarebbero in grado e comunque solo su un circuito di poter sfruttare le potenze esasperanti di queste nuove auto di queste nuove supercar quindi sarebbe meglio molto meglio avere potenze intorno ai 500 cavalli massimo esagerando che non siano elettroniche abbiano pochissime elettroniche addosso certo sicuramente più pericolose per la maggior parte delle persone dato che la maggior parte delle persone ormai come dicevo nel video l'altra volta sono talmente assofatte dall'elettronica che si sono indebolite qui e nel corpo e quindi non sono più in grado di guidare certe auto senza l'ausilio dell'elettronica e quindi tutti fanno questa rincorsa ad avere l'auto più potente per chissà cosa tanto non le sfruttate sui passi di montagna è impossibile in pista ma quante volte andate in pista e poi c'è con chi vi è andata a confrontare in realtà in pista cioè uno che ha una macchina di 700 cavalli prova a gusto a sorpassare una macchina che ci abbia 250-300 cavalli che costa un decimo della vostra macchina perché se trovate uno che ha un'auto pari alla vostra cioè non si diverte nessuno perché non siete in grado a meno che non siete dei piloti veri allora il discorso cambia ma i piloti veri non vanno a sfruttare queste supercar in pista hanno le loro macchine da corsa quindi quelli che hanno queste macchine 700-800 cavalli e gente che le compra poi non le sa guidare o comunque non è in grado di sfruttare appieno il potenziale di queste supercar però potete dire quando andate a prendere l'aperitivo che avete macchine con 700 cavalli ma è un'ansia inutile un'ansia inutile perché avete delle auto che non sono animate cioè l'unica l'unica cosa è poter dire c'ho 700-800 cavalli ma non va bene così non va bene così tante case costruttrici molto blasonate negli anni 90-80 costruivano le auto che divertivano tant'è vero che ancora oggi caso vuole che le auto più desiderate al mondo sono sempre le auto che avevano il cambio manuale vi faccio un esempio palese la McLaren F1 stradale del 1990 ancora oggi è considerata una delle auto migliori del mondo in assoluto e aveva il cambio manuale la Ferrari F40 aveva il cambio manuale e chi è che si può pensare di andare a dire che l'F40 non è l'auto migliore del mondo chi ha questo coraggio di dirlo qualcuno lo dirà per la carità però sapete tutti che cioè l'F40 l'F40 la McLaren F1 le Porsche 993 GT2 tutte quelle auto lì che i proprietari compravano all'epoca e ancora oggi posseggono e ovviamente hanno un valore stratosferico giustamente perché avevano delle caratteristiche tecniche che andavano ben oltre il loro nome stesso e non avevano 700 cavalli l'F40 ne aveva 478 se non sbaglio la Porsche 93 GT2 ne aveva 450 stiamo parlando già dell'apoteosi e credetemi credetemi ci sono pochissime persone sul pianeta in grado di salire su una 993 GT2 e andarci a tuono perché vai sul muro non c'è dubbio su questo la McLaren F1 stradale per esempio che aveva 627 cavalli con il potentissimo motore V12 BMW all'epoca era la più potente nel 1990 era l'auto più potente in commercio aveva più cavalli delle altre ma aveva il cambio manuale però aveva anche una struttura diversa era un'altra auto che si poteva guidare in modo diverso comunque dava piacere di guida perché era molto leggera molto veloce era tutto oggi le auto invece sono dei concentrati di elettronica totale ci hanno sulla scheda tecnica dichiarano tonnellate di cavalli ma sono inanimate quindi tutta questa ansia da potenza che non so da dove sia venuta ovviamente sono in media che hanno bombardato con questa cosa qua hanno tutti inzuppato il cervello delle persone fino ad andare a pensare che un'auto inanimata sia un'auto favolosa esteticamente sono bellissime vanno fortissimo tutto quello che va molto più forte di un F40 di una McLaren F1 di una Porsche 93 GT2 tutto quello che volete ma dov'è il gusto di guidare la vostra auto sportiva cioè voi spendete 3, 4, 500 mila euro per una macchina che poi non ti diverte io lo so che qualcuno di voi si giustificherà e dirà ma non è vero io mi ci diverto io mi ci diverto per me è spettacolare per me di qua per me di là per me di su per me di giù ma lo sappiamo tutti non prendiamoci in giro lo sapete tutti che è una presa in giro non è come dite voi è come dico io con questo ragazzi chiudo il video vi saluto al prossimo video ciao a tutti con questo chiudo il video dell'ansia da potenza ciao a tutti ciao a tutti